Cosa hai trovato nel mio ufficio, autista? Oh, niente. Credo che un animale abbia fatto scattare l'allarme. Qualche mulo testardo. Di nuovo? Te l'avevo detto di non conservare le carote lì dentro, idiota! Tranquillo, nessuno sa che lei lavora per vini papalardo. Eccellente! Cosa? Hai frugato nel mio schedario! Mi spiace, non ho resistito. Però, wow, vini papalardo è un pezzo grosso del crimine. Sì, forse, ma al contrario di me, vini papalardo ha un carattaccio. Cosa? Io sono calmissimo! Sei licenziato! E poi non si fida di nessuno. Non da quando Mou, il suo braccio destro, è stato arrestato. Probabilmente Vini sarebbe molto grato se qualcuno gli desse una mano con Mou. Oh, certo! Basterebbe rubare un furgone penitenziario e andare a prenderlo fuori dal tribunale dove verrà condannato oggi. Aspetta un attimo! Non avrai mica intenzione di unirti alla sua banda, vero? Tu sei il mio autista! Non per molto. Se riesco a evitare che Mou finisca in prigione, potrei entrare nella banda di Vini e avvicinami a Rez. Ehi, Chase, serve qualcosa? Cosa mi puoi dire del braccio destro di Vini Papalardo? Mou De Luca? Non è proprio un criminale, è solo il cugino di Vini. E allora perché lo vogliono condannare? Fammi controllare. Aha! Però non ha pagato 412 multe per divieto di sosta. Divieto di sosta? Quindi... Immagino che non importi a nessuno se non finisce in prigione. Che hai in mente, Chase? Chase... Chan lavora per Vini e sono quasi certo che Vini lavori per Rez. Ma per unirmi a Vini, devo fare in modo che si fidi di me. Facendo scappare in modi, Luca? Temo che violi ogni regolamento. È l'unica pista che ho. La centrale ha un furgone penitenziario che posso prendere in prestito? Forse. Prova con Chuck, lo troverai sul retro della centrale. Gli dirò che stai arrivando. Gli dirò che stai arrivando. Ehi là, agente McCain. Ti stavo aspettando. Ottimo. Allora, hai un furgone penitenziario che posso usare? Certo, ma potrei finire nei guai se scoprissero che l'ho prestato in giro. Magari posso fare qualcosa per... Perfetto. Mi hai letto nel pensiero. Prendi quella scatola e seguimi. Scaricala pure qui. È la moto che ho ordinato per posta. Oh no, si sono scordati le ruote. Pensi di riuscire a trovarmene un paio? Non so, non so. Oh Oh È una, ora me ne serve un'altra Andare su una ruota sola è pericoloso Oh 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Whoa. Yeah. 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 No, quello è un sidecar. Beh, niente male, direi. Sarà sicura da usare. Mi sa che c'è un solo modo per scoprirlo. Devi farci un giro di prova. Fino a Ceritri Hills e al porto di Hoborn dovrebbe bastare. Fino a Ceritri Hills 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 Fino a Ceritri Hills